Perché vedete attraversiamo una fase, attraversiamo da un po' di tempo in cui direi che nel Paese c'è un clima, c'è un mood che non è precisamente quello della fiducia nel futuro del Paese e noi dobbiamo reagirvi e dobbiamo cogliere e trasmettere tutte le iniezioni di fiducia che possiamo ricavare anche da un'occasione come questa molto significativa, molto importante e lo dobbiamo fare in modo particolare pensando a giovani che dobbiamo sostenere nelle difficoltà che incontrano per fare ricerca e addirittura nelle difficoltà che incontrano per entrare nel mondo della ricerca.